L'inaugurazione della dorsale ionico-salentina dell'Acquedotto del Sinni e la ratifica da parte della Regione Puglia dell'accordo di programma sottoscritto con Regione Basilicata e Presidenza del Consiglio dei Ministri per la gestione condivisa delle risorse idriche sono due ulteriori passaggi verso la piena attuazione del nuovo sistema regionale di governo dell'acqua. È il commento del Vice Presidente del Consiglio regionale Paolo Castelluccio. A suo parere, le aspettative sono rivolte adesso alla definizione della tariffa all'ingrosso e all'individuazione degli obiettivi gestionali e infrastrutturali indispensabili a realizzare una svolta nella lunghissima vicenda che riguarda l'impiego delle risorse idriche lucane. Per Castelluccio va superato il paradosso nell'uso delle risorse idriche lucane che producono benefici alla Puglia ma non altrettanto alla Basilicata per i costi ancora troppo alti e l'inadeguatezza degli impianti irrigui.